Cultura, arte, ma anche sport, cibo e attimi di relax tra sole e acqua ma lontani dal mare. Se per Ferragosto non avete intenzione di prendere l'auto per raggiungere la costa o la montagna, optando per una giornata di festa all'insegna della calma e della lucchesità, non disperate. Qualcosa da fare non vi mancherà. Chi ama l'arte potrà cogliere l'occasione offertali dalla direzione dei Musei Nazionali di Lucca che ha deciso di lasciare aperti, eccezionalmente dalle 8.30 alle 13.30, Palazzo Manzi e Musei Nazionali di Villa Guinigi, dove sarà possibile ammirare la mostra Pittori a Lucca al tempo di Paolo Guinigi, Battista di Gerio in San Quirico all'Olivo. Dopo una visita alla mostra e magari un giro in un centro città privo di facce note ma colmo di tanti turisti, coloro che vogliono godersi un po' di sano relax prendendo anche un po' di tintarella possono recarsi al parco fluviale, dove sarà possibile anche fare rafting una bella discesa a bordo di morbidi e sicuri gommoni in compagnia di guidi esperte, per scoprire scorci inediti e segreti di Lucca. E se poi si è stanchi di cucinare, due le opzioni che la Piana mette a disposizione dei suoi cittadini, un ristorante o tortelli grigliata e specialità annostrane alla festa di Noè, promossa dall'Associazione Sportiva Parigia Camigliano. La Piana pensa poi anche agli sportivi, che nemmeno in un giorno di festa vogliono riposarsi. Per loro l'alternativa ad arte e relax la offre il territorio di Alto Pascio. Come ormai da tradizione, anche per questo ferragosto, lungo le strade del comune del Tao, si svolgerà la 32esima edizione del trofeo Carlo Alberto Perlegrini. A Marginone, infatti, all'ore 14.30 sarà dato il via, questo importante appuntamento per il ciclismo in provincia di Lucca, che porta lungo le strade molti appassionati sportivi.